Soltanto che siccome non ne abbiamo... Stai prendendo? Allora? Ho dovuto togliere la mutandina perché copriva la telecamera, era assurdo. L'ho comprata ieri, quindi non lo so. Ok, allora? Se la descrive mentre lo fa, così mi faccio vedere la caccia, in questo momento non so, ci dà abbastanza da capire quello che mi sta accadendo. Allora, si deve togliere delicatamente, cercando di non... Staccare un... Dice che è particolare questo tipo di... Sì. Di adesivo, che non si trova... Era una delle mie obiezioni su fare queste cose in Messina, però dice che è una mia paranoia, che invece siamo tutti... Dicendo di... Ah... C'è un minello che dice una pedra, c'era da fare in ogni caso un... un controllo. Dice che gli esami sono tutti uguali, per cui... Gli esami di infermieri sono tutti uguali, quindi dovrebbe essere... Ah sì. Però quello che lo faceva giù era addirittura quello esperto nel... Come si chiama? L'estressista. Tutti arrivano, ma l'estressista deve venire da... A me la mette a pulire semplicemente l'eparina nel... Nel portal cut questo qua... Centrano, vico, come si chiama? Il portal cut. Il portal cut. Che puoi scoprire che non è un gatto cut, ma è il catetere. Ok. Quindi questa è la prima fase. Allora, questo qua è il cerotto per tenere fisso il catetere, mentre si toglie questo, perché una volta tolto questo è facile che si muove. Allora, queste qua si toltono le alette. Ah, questa c'è questa qua. Eh, non si vede. Eh, no, no, va bene. Ho visto io un pochino che... Ok. Si può anche fare un pochino di... No, no, ci sono le sue mani. Ok. Non ho fatto scuola di... No, 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 sei sicuri, no? Tanto che era un documento. Di ripresa. No, un documento. E poi piano piano si toglie... Si toglie questa... Questo qua da sotto, cercando di spostare il meno possibile... Bellissimo. Quindi adesso si va in mezzo. Ok. Allora, visto che... C'è lo strano qui... Veloce la mia. Il... Questo qua. Questo è quello originale suo per la prima volta. Si. Eh, pensavo che ci fosse... Che fosse l'altro. Poi... Un attufo di sterili... Foglio di vedere. Foglio di vedere. Grazie. Ok. Guanti sterili. Guanti sterili. Guanti sterili. Vabbè. Si, non. No, non si. Dovrebbero esserci mica già dei stampati. Sì, ma forse la visione è una rosella stampata, eh? No, no, con le foto per i piccoli. A me mi ha dato un documento che non avevo tempo di guardarlo. Come al solito, vedere è un'altra cosa. Poi magari se c'è qualcosa in rete, dovresti concentrare una cosa in rete, no? Guarda. Ah, perfetto. Quando mi dà una copia, non serve. No, le faccio la foto perché copia. Colore difficile. Hello! Fabio, tu l'ho rovinato la mattina? Volevi andare a farti in piscina, volevi andare a farti in piscina stamattina non puoi parlare. E poi la medicazione... Questo finisce di tanto. Con movimenti, esatto, circolari. Per esempio, rispetto a quel coso che sono da operare, questo invece non c'è niente, perché sono una macchia questa. Allora, questo qua non da medicare, non da... Ok? Se no, salta da... Quindi questa ha la gomma, adesso questa cosa non da perché non sono messa a me non da fessere. E' un po' chiaro. Quindi, insomma, al solito, quando ero piccolo, vi ho detto, che mi guardavo oculista, io da prima, a 12 anni, assistivo a mio padre, mi taglio la cataratta e con il cotone di tofilo asciugavo il sangue. Come la monaca di Monza, dovevo giocare questa mattina, mi fanno giocare... Con le indicazioni... Con le tabanate. In alcun minimo di movimento si può procedere. Sì, sì. Adesso perché ho tolto la crosta. Ah, c'è una crosta finita che bloccava. Ah, un po' di crosta. Ok, perfetto. Io non vedo bene perché... Però vedo macchie nere, quindi è la gomma oppure è sangue quello lì. Cosa? Io non vedo bene. Quelle cose scure sono la colla, che cosa deve essere lì? Lì è... Vesilio. È anatomico, però non come quello. Questo brucia. Quella non c'è la pelle. È come se ci fosse formata una vescica andata via la pelle. Li mettiamo ancora sopra. Ha presenti le vesciche quando c'è? Sì, sì, sì. Brutto, brutto, brutto. Ecco. E' colpa mia, mea colpa. Ok. Vedi, questo è il suo. Il quale va sotto, giustamente. Con la freccia verso l'alto. Perfetto, guarda. Ok, si mette. Sì. Posso aiutare? Posso aiutare? Posso aiutare? Bisogna cercare di metterlo alla stessa intensa del... Ah, non la diventa qua. No, 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 senza... Ah, c'è una specie di guida, perfetto. Poi Fabio deve andare in quattordici che è finito. Maestro, Fabio, ma... Dalloni puntini... Un pochino più giù. Dalloni puntini... Un pochino più giù. Esatto, questo così. E si chiude la prima ala. Ma è un maestro... Capisco che gente che non l'ha fatto mai abbia problemi, no? Perché è sempre una responsabilità. E poi questo qua. L'altra ala. Sì, perfetto. E si chiude. E va dolcissimo che è stato. Perfetto. Dopodiché... 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 Si mette... La vendita la... Infermeabile. E c'è un'altra cosa in più. Praticamente qua non mi laverò più per semestre. E mia moglie contenta così non aveva scusa per rifiutarmi. Puzzi, puzzi. Lo mettiamo un pochino... Lo mettiamo un pochino... Carichiamo veloce. Pochi secondi. E quindi questo kit, questo set... Come funziona? Bisogna chiedermi... Questo kit, questo set... C'è da vedere loro... Si, da chiedere in farmacia. Ah, addirittura? Si, da noi... Manco la farmacia ci sia in Sicilia ormai. Siamo al tempo dei borboniti. No, perché Andrea... Andri... L'aveva guardato e in realtà non esiste la rete in Sicilia. Quindi solo se tu per caso hai avuto esperienza... Eh, per una rete di questi pic... No. Ufficiale non c'è. Manco Catania e Palermo. C'è dal Sicilia in Sicilia. Quindi siamo al rischio. Dico però... Dico se non gli strumenti esatti... E' bellissima. Quindi questa è trasparente impermeabile. Eh? Trasparente impermeabile. Trasparente impermeabile. Trasparente impermeabile, esatto. Si mette la data. Be... Troppo... 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 Mangio... Finito. Ok. Buon. questo è il bilamo no questo è il bilamo